Un'interdittiva antimafia è stata emessa nelle scorse ore dal prefetto di Lecce Maria Teresa Cucinotta nei confronti della società Salento Security che esattamente sei mesi fa è stata vittima di un attentato. Il titolare subito dopo l'esplosione avrebbe cercato di contattare un esponente di spicco di un clan locale, forse per scendere a patti. Si tratta della seconda interdittiva annata da una costola dell'inchiesta Final Blow, la prima riguardata la società Parco di Belloluogo che gestiva l'omonima struttura per conto dell'amministrazione comunale di Lecce. Per il prefetto vi sarebbe il pericolo di infiltrazioni mafiose. Sull'attentato del 30 ottobre scorso il titolare fornì agli investigatori un'altra chiave di lettura. In quella circostanza la bomba carta lanciata nel cuore della notte danneggiò la porta d'ingresso e alcuni suppelletti l'interni.